Negli studi di TV City, Raffaella Petrillo, presidente dell'Associazione AVO, volontari ospedalieri, domenica 24 in occasione della giornata nazionale, avete programmato un'iniziativa all'ospedale Marisca. Noi siamo federate a livello nazionale, quindi il nostro presidente ha pensato per questo momento così particolare una rinascita per l'AVO, perché adesso riprenderemo anche il servizio, anche se a piccoli passettini, ma lo riprenderemo. Lui ha consigliato di piantare una piantina o nell'ospedale o in una villa comunale, laddove possiamo avere visibilità. Questo piantare un alberello significa rifiorire, perché anche se un alberello appassisce, poi con la cura rifiorisce e quindi continua la vita. Noi abbiamo pensato di mettere questo alberello di olivo il 24 domenica all'ospedale Marisca, dove noi facciamo servizio. Un'iniziativa dunque dall'alto valore simbolico. Simbolico. Sarà una piccola riunione delle volontarie, quelle che poi decideranno di fare di nuovo il servizio in ospedale. Un po' quella volta facendo servizio non nei reparti, perché sarebbe difficile, però un'accoglienza, un'accoglienza alle persone che si recano in ospedale. Vogliamo riprendere a fare il servizio, anche se non all'ammalato direttamente, ma ai familiari degli ammalati e alle persone che vanno negli ambulatori. Ricordiamo quali sono le mansioni delle volontarie dell'AVO? Fino a prima del Covid noi ci occupavamo proprio dei malati. Andavamo nei reparti, aiutavamo i malati della medicina, davamo da mangiare, vestire, pulire un poco, fare compagnia. Fare anche servizio negli ambulatori, perché non è che facciamo il servizio per l'ospedale. Noi facendo servizio in un reparto, comunque aiutiamo l'ammalato, perché noi sappiamo benissimo che nell'ospedale Maresca c'è carenza di personale. Quindi non è che noi facciamo servizio e aiutiamo il medico. Aiutando il medico, aiutando gli infermieri, aiutiamo allo stesso tempo i malati. Le volontarie con il camice, il distintivo, sono persone che faranno da tramite malato, medico, famiglia. Questo è quello che faremo adesso. Quindi come questa piantina è un primo passo per ricominciare. Io ci ho fatto fare anche una bella targhetta, la metto vicino perché i volontari vogliono che tutto il servizio, l'ospedale, i volontari, un po' tutti, dobbiamo rinascere. Perché è difficile, però la rinascita ci deve essere. Un passettino alla volta ripristiniamo il servizio e diamo un aiuto a chi ha bisogno. Grazie.